Il testa coda di campionato nella serie C di calcio 5 Sportland, Clitos Mind per il primato, Five Fighters alla ricerca disperata di punti salvezza, inizio di gara sovverte ogni pronostico, calcio di rigore dopo pochi minuti, si presenta Podimani che non fallisce, regala il primo vantaggio della gara, poi però è Rappasho prima di essere in corsa, poi col mancino da un corner, stravolge totalmente risultato, la ciliegina sul finire di primo tempo regala il 3 a 1 ai suoi, all'inizio di ripresa Mancini mette la parola a fine sulla gara, nonostante la timida risposta degli avversari che con Fierro siglano il 2 a 4, che chiede anche immediatamente il cambio alla fine, arriva il treplice fischio, ora linea all'intervista. Eccoci qua con il man off the match di stasera, Nicolo Rappa, una tripletta sensazionale, una grande partita, altri tre punti che vi avvicinano alla vetta, cosa vanno? Abbiamo fatto bene anche stasera come sempre, nel senso che questa squadra è nata da niente, siamo dei ragazzi normalissimi ma ci mettono una grinta assoluta sempre, quindi veramente per noi è un traguardo essere arrivati qua, a due partite alla fine essere secondi, è una cosa incredibile, stasera altra grande partita, non ho niente da dire, ragazzi favolosi veramente. Quindi è una grande prestazione di squadra, oltre che il singolo che oggi l'hai deciso tu, tante volte l'ha deciso Mastronardi, però alla fine siete un gruppo unito e forse è questa la cosa più bella del vostro team. Assolutamente sì, oggi gli ho portato via il man off the match, ma lui è fantastico, trova sempre la porta da qualsiasi posizione, noi ripeto siamo una squadra veramente messa bene in campo e questo è il primo anno che giochiamo insieme, quindi sono soddisfatto di tutti, li ringrazio perché se io faccio bene è anche grazie a loro, quindi veramente grazie ai miei compagni. Grazie mille, veramente belle parole e complimenti.